Guaranà con Elodie alle 8 e 38 minuti, Guaranà che credo sia un vitalizzante, un energizzante, che sicuramente avrà bisogno il nostro ospite che in questa settimana sta girando ovunque, ma neanche più solo a Milano. Giusto Andrea Cherchi? Giusto, ciao a tutti, grazie, grazie di invitarmi sempre, di coinvolgermi sempre. Buongiorno a tutti, sì di Guaranà io ne ho bisogno, ma diciamo che ho già un'adrenalina mia personale, una buona scorta, è arrivato a 55 anni, ne ho ancora, va ancora bene, speriamo che continui così. Sì, fuorisalone, la città è impazzita per il fuorisalone, come giusto che sia, a tanti può anche non piacere, però di solito comunemente è molto apprezzato, piace molto, molto colorato, molto bello, non ti chiedo se ti piace. No, no, tanto lo sanno tutti che non lo sopporto, quindi lo sa chiunque ci segue, sa la grande avversità. Allora mi hanno dato tanti gadget, a tanto cosa, la settimana prossima vengo lì, ti rimetto tutti lì, se si mangia potrei quasi pensarci effettivamente. No, alcuni saloni non ci sono cose che mangiano, non è la Gourmet Week. Allora non mi interessa, solo che erano rimasti a girare città, a girare in città, Milano e va bene, e invece scopriamo anche la Corriere TV che appunto ha pubblicato il tuo video, che anche fuori Milano ormai bisogna andare. Allora Alcova, che è questa organizzazione privata che gestisce buona parte delle organizzazioni del fuorisalone, è un'istituzione, di solito cerca dei posti abbandonati, sperduti, o che comunque comunemente non vengono visitati o non sono aperti al pubblico. due anni fa aveva fatto l'ospedale militare di Baggio, quindi tante persone erano riuscite a rivedere dove avevano fatto la visita, i tre giorni del car, con la stessa fila, la stessa cosa e quant'altro di quella tre giorni, con le stesse emozioni, diverse le emozioni, le emozioni della visita militare non erano proprio ottime, ho fatto in tempo a farla anch'io, penso, ho fatto in tempo a farla anch'io. Vede, 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 ma poi l'hai fatto il militare perché tanti hanno fatto la visita... Ovviamente no, ovviamente no. Eh, vedi, vedi, a me è capitato. E lo so, ogni tanto girano foto di te militare. Sì, ero magro, veramente. Quando sono tornato, adesso farò ridere tutti, ma ero veramente, ero sotto peso di un chilo. Però... Che in vita mia mi sia capitato. L'unico momento in cui ero sotto peso di un chilo. Sì, sì, ma è durata poco. Allora, ascoltami, Varedo, Varedo, Villa Magatti, Valselchi, Villa e l'altra Villa, Villa Barone. Allora, sono veramente delle trovate incredibili, soprattutto per quanto riguarda Villa Bagatti Valsecchi. Se andate non c'è tanta coda perché è uno spazio molto aperto, quindi c'è un grande giardino, c'è un ingresso grandissimo, quindi trovate poca coda. È ben gestito, entrate nella villa. Finalmente potete vederla perché chi è di Varedo di solito la vede da fuori. vedete la villa con dentro delle installazioni che non sono neanche tanto invasive perché a volte sai, tu vai a vedere un posto... È qui che ti vuoi vedere, bravo. Eh no, tu vai a vedere un posto che... Perché io di solito vado in tante installazioni del fuorissalone, vado perché magari mi mancano le fotografie di quel posto. Poi arrivi, magari c'è un totem di quattro metri che copre tutto. Qui no invece, qui non è stato fatto... Cioè le installazioni sono comunque a misura d'uomo rispetto a quella casa lì, quindi riesci a vederla. Poi soprattutto un'altra bella cosa, quando vai in queste ville le finestre magari non sono aperte, non puoi accedere ai balconi. Qui invece puoi fare molte cose, puoi anche uscire sul balcone e vedere. Poi quando sono andato io la giornata era bella, ma credo che fino a domenica... Villa Bagatti Valsecchi a Varedo. Villa Bagatti Valsecchi, esatto. Dobbiamo insegnarcela. Ma invece dimmi un po', tutte quelle installazioni che vediamo a Milano, sono solo io che quando le guardo non capisco assolutamente niente di quello che sto vedendo? Allora, l'arte... Il detto per tutti è prendi l'arte e metti la parte. Sì, ma qui già chiamare l'arte è un complimento. Allora, ascolta, l'arte moderna purtroppo ha una... Sai, noi non lo siamo vissuti in epoche diverse, non abbiamo potuto vedere quali erano le reazioni nel 1800 alle nuove realizzazioni artistiche rispetto a quelle precedenti, ma c'è sempre stata grande polemica in tutto, perché comunque quando poi c'è stato il futurismo, il manierismo, la gente impazziva, ma in senso negativo, diceva avete rovinato l'arte, ha secoli e secoli per costruire dell'arte positiva, adesso voi la rovinate. Ti lascio con un mio pensiero, io non sono preparato, nel senso che bisognerebbe essere degli esperti, dei critici d'arte per poter giudicare. Sono sicuramente cose molto particolari, molto strane, alcune di loro sono molto colorate, quindi sono appariscenti, altre sono veramente incomprensibili. Quello che penso io è che al fuorissalone ci siano troppe cose, ovvero ci siano almeno qualcosa come 10.000 piccole installazioni o piccoli momenti che tu dici, ma che cos'è sta cosa? Quindi sei d'accordo con me che ci sia troppa roba però? No, troppa roba sì, troppa roba e non riesci neanche a visitarla, perché comunque prendi uno come me che lo fa di mestiere, che è un perdigiorno incallito. Cioè io posso veramente vedere quasi tutto, però ci sono persone normali che lo possono fare soltanto durante il fine settimana. Tieni presente che noi come giornalisti, tra i quali ci sei anche tu, possiamo anche avere il privilegio di saltare la coda. In alcune installazioni purtroppo, ti parlo quella bellissima di Palazzo Litta, parlo anche di altre installazioni, fai magari un'ora di coda prima di entrare. E quindi puoi vedere tre, quattro cose. Io ti dico, quella che consiglierei, io consiglio a tutti di vedere delle cose che possano anche raccontare la storia di Milano. Per esempio in Via Giacosa, al Parco Trotter, hanno aperto la vecchia Casa dell'Acqua. L'installazione dentro è molto particolare, molto strana, però entri in un edificio che magari non hai mai visto, che hai sempre visto da fuori. Ecco, io consiglio di fare così e di scegliere magari anche delle cose di nicchia, perché se tu ovviamente scegli Palazzo Litta, lo sai che devi fare questo sabato e questa domenica, ti farai anche due ore di coda. È normale. È come il padiglione del Giappone a Expo, per intenderci. Esatto. L'hai saltata la fila lì tu? Io sì, tu l'hai saltata. Allora sì. La giornalista ce l'ho fatta. È il mio vanto. Nel senso che essendo la mia professione, giornalista e fotografo, ti fanno saltare la fila. Ma è normale, sai perché? Perché comunque io nella mia agenda di lavori che devo consegnare, devo fare, ci sono almeno 100 cose. Eh sì. E se io non riuscissi a saltare la fila, non ce la faccio. Non ce la puoi fare. Poi lo so, mi vergogno un po'. Guarda, è bellissimo quando tu passi davanti a tutti, quindi fai tutta la fila di quasi un chilometro, passi davanti a tutti, le persone che sono in fila come ti guardano, come ti odiano. Fanno bene, fanno bene. Fanno bene Andrea Kerch a non volerti bene in quel momento. Poi però gli fai le tue due moine, i tuoi video su Instagram e quali ti vogliono bene comunque. Pensa te come li freghi tutti. Eh certo, sì, sono stato saltato la cosa. Infatti, pensa te come li freghi tutti. Va bene. Stamattina dove vai di bello? Allora, signora, stamattina c'è la festa della polizia, alle 11 al piccolo teatro di Strayler, quindi quello, e poi altri giri del fuorisalone stamattina. Adesso vado in via Senato, faccio quella parte di Corso Venezia che mi manca, quindi comunque sempre... Qualche gadget, se ti avanza portalo qua. Sì, te li porto, tu che ami il fuori a dirò. No, ma io di solito faccio così, ne prendo due, uno per me lo prendo anche per il collega giornalista. Bravissimo, bravissimo. Quando dici, me ne dà due, uno per Ranfi, grazie. Sai dove, sai, ti lascio con questo. Sai, io mi sono andato in un posto, sono entrato a casa, non ce l'avevo assegnato. Ho detto, lo faccio io, ho visto fuori dei piumini, delle trapunte a De Poole, una traversa di Corso Magenta, sono entrato, entravi dentro, c'erano materassi, trapunte, cuscini, mi è venuto un sonno, però era bello, una bella installazione. Ad un certo punto la signora mi ha detto, ma lei è giornalista? Sì, allora si registri, le lascio l'omaggio. Un trapunto. Un cuscino, un cuscino. Vado, Corso Magenta, De Poole, adesso vado subito. Vai, vai, vai. L'ho bisogno per il divano nuovo, quindi benissimo, grazie. Sì, 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 guarda, entri tu e Erika, Erika entra, perché io ho potuto prendere un solo cuscino, me ne servivano due. Va bene, va bene, allora andiamo io e Erika, benissimo, va bene, dai. Grazie Andrea, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti voi, ciao, ciao. Ciao, grazie mille ad Andrea Kerchi, che appunto adesso è in giro per il fuorisalone, come abbiamo visto, non solo Milano al fuorisalone, ma anche Varedo, anche la città metropolitana, ma si sta allargando, tra parentesi, Varedo comunque nella zona nord della città, che è famosa per il mobile, lì sono, quella zona lì, insomma, famosa per il mobile, quindi perché no, appunto, allargare, forse in realtà c'è sempre stato il salone del mobile, arriva un po' da lì, ma insomma, anche il fuorisalone, vada a scoprire nuove zone della città. Andiamo avanti con la musica, loro sono Cool and the Gang, Celebration. No, no,